Grandissimo momento perché io dopo dieci anni di DynamoQ, la mia prima squadra, come ho cambiato la mia vita, ho cambiato tutto, paese, città, tutto, campagna, tutto. E la prima stagione è fantastico, a Sampdoria ha vinto Scudetto, questa atmosfera campione, molto importante, anche per noi. Io penso anche a mio piccolo aiutare per questo campionato, per questo Scudetto. Come ricordo di questo periodo, per me è molto importante, molto grazie per Mantovani, moltissimo, secondo per Bosch, terzo per tutti gli amici che ha giocato, quattro per questi tifosi, questo è molto importante, questa è una famiglia, una società, per me è molto importante. Grazie.